Essere vegani vuol dire mangiare la soia e i cereali che normalmente vengono dati agli animali, negli allevamenti intensivi. Sono dei medi e propri lager questi allevamenti, perché quelle trasmissioni stupide che fanno in televisione, tipo Mela Verde, Pianeta Verde, quelle trasmissioni completamente inutili, che fanno vedere mucche al pascolo, fanno vedere i maiali che rotolano il fango, fanno vedere i polli, le galline che comano le loro uova in stalle o aie. Quelle sono cose che non è la realtà. La pistecca, l'uovo e il latte che finiscono nelle vostre tavole non provengono da quelle situazioni, provengono tutti da allevamenti intensivi. Tutti. Quindi gli animali che mangiate, da cui rubate il latte, da cui prendete le uova, sono tutti animali che vengono fatti letteralmente impazzire in capalloni bui, sporchi, puzzolenti. Perché comunque il discorso che fanno vedere nelle pubblicità, dove fanno vedere la mucca al pascolo, o il vitellino che sorride. Non è così la realtà. Le pubblicità del latte e dei formaggi e degli yogurt sono quelle più scandalose, perché nessuno sa che per fare il latte muore un vitello e una mucca viene violentata e fatta ingravidare a porta dai due ai tre anni. Nessuno ve lo dice che per fare il latte alla mucca viene portato via il vitello. La mucca non fa il latte così a caso. La mucca è un mammifero. Fa il latte quando c'è il vitello, come noi umani. La mucca non fa il latte.